Dice la mamma, mio buon Corrado, per pochi istanti io me ne vado, vo' che tu sia studioso e buono, non far disordine, non far frastuono, e guai se il pollice succhiar vorrai, in modo orribile te pentirai. Tu non l'aspetti, ma di soppiatto entrerai il sarto tutta ad un tratto, taglierà il pollice col forbicione, come se panno fosse o cartone. La mamma appena la soglia tocca, ed ecco il pollice nella bocca, s'apre la porta ed il sartore entra a gran salti, pian di furore, col forbicione, zic, zac, recida il bimbo, i pollici, il bimbo stride, in banca il sarto, se n'è già andato col forbicione insanguinato. La mamma attonita e spigottita, vede Corrado senza due dita, e quei due pollici così tagliati, mai più a Corrado, son rispuntati.